Best Loser Wins Questo video parte da un libro che sto leggendo eccolo qui, di Tom Hogarth che è un trader conosciutissimo soprattutto nel Regno Unito io lo seguo da tantissimi anni ha dato spesso dei contributi alla community del trading internazionale per quanto riguarda la trading psychology la parte più difficile che spesso non viene utilizzata nel trading e che quindi ha dato secondo me un grande contributo alla community visto che sono temi questi che vengono spesso trattati molto poco Allora Best Loser Wins Parto da qui perché a mio avviso quello che sto leggendo è assolutamente ciò che penso e ciò che cerco di trasmettere nel mio piccolo ai trader italiani che vogliono comunque conoscere anche altri approcci e altre modalità operative non solo dal punto di vista prettamente tecnico ma dell'approccio al trading e ai mercati che è fondamentale e quindi siccome non l'ho ancora letto tutto ma lo sto leggendo e già solo la prefazione di questo libro vale l'acquisto non è una pubblicità Tom Hogarth manco mi conosce però credo che sia giusto dare dei prop dare questo contributo anche a voi se non l'avete letto veramente è top è in inglese quindi dovete un minimo conoscere la lingua però è scritto abbastanza in modo semplice quindi penso sia abbastanza fruibile allora io mi sono tradotto quindi userò un foglietto sono molto trasparente con voi mi sono tradotto la parte della prefazione con cui appunto oggi ho preso questo spunto per fare questo video che diciamo va molto bene a riassumere il titolo di questo libro se voi non conoscete Tom Hogarth andate a vedere chi è su YouTube capirete che trader è sicuramente un trader molto capace ecco e soprattutto a me piace perché focalizza il suo approccio il suo teaching il suo insegnamento diciamo non solo sull'aspetto tecnico cosa che io insomma noi di Airforex cerchiamo di batterci da tanto tempo poi inoltre mi sembrava anche in timing questo tipo di contenuto perché sempre di più sulla rete su YouTube sui social troviamo assolutamente esempi sbagliati che però vengono molto seguiti e soprattutto anche concetti sbagliati oggi chi usa più paroloni più tecnicismi no è quello bravo chi invece utilizza la filosofia del keep it simple un po' come noi diciamo passatemi il termine è lo sfigato che non guadagna dato per assodato che dopo tanti anni che faccio trading ho visto di tutto e non mi meraviglia più niente e non mi tocca più nulla sia da un punto di vista di cosa potete pensare possano pensare di me le persone e sia da quello che poi ne deriva dai mercati quindi periodi che possono essere migliori o peggiori di altri ormai devo dire che ho raggiunto una serenità di vita e di azione che non mi quindi scrivete pure i vostri commenti fate quello che volete però insomma quello che voglio dire non mi toccano non mi toccano e penso che sia questo una delle grandi mie capacità che ho sviluppato nel tempo nell'accettare i momenti di winning losing no cioè profittevole e non allora io adesso vi leggerò questa prefazione ve la leggo tradotta in italiano l'ho tradotta io ma è assolutamente capibilissima e poi facciamo un po' di capiamo un po' perché sono cose che io dico sempre allora non vengono solo dalla mia bocca che sembrano quello che parla solo di mindset di mentalità dell'assetto mentale noi dico io Antonio noi di Airforex ma ci sono trader ripeto non è Arduino e basta ok allora cosa dice lui dice come ti senti riguardo il fatto che il fallimento definirà in larga misura la tua crescita e la tua traiettoria di vita praticamente in ogni aspetto della vita potresti voler chiudere questo libro e pensarci per un po' è abbastanza spaventoso quanto si approfonda questa frase quello che il 99% dei trader non si rende conto è che sta cercando risposte nei posti sbagliati conoscere l'analisi tecnica i fondamentali gli indicatori i ratios i patterns trend line eccetera eccetera bene tutti li conoscono e tutti perdono tranne l'1% cosa fa l'1% che il restante 99% non sta facendo ciò che sto facendo mi permette di avere successo nel trading che ho e che gli altri non hanno la risposta è tanto semplice quanto complessa sono un perdente eccezionale il miglior perdente vince che è il titolo del libro ho allenato la mia mente a perdere senza ansia senza perdita di equilibrio mentale senza attaccamento emotivo e senza fomentare sentimenti di risentimento o desiderio di recuperare è grazie a come funziona la mia mente che sono in grado di fare trading come faccio di tradare come faccio la mia conoscenza dell'analisi tecnica è nella media la conoscenza di me stesso è ciò che mi fa distinguere la vera misura della tua crescita come essere umano non è ciò che sai ma ciò che fai con ciò che sai poi ho messo un'altra frasina però finirei qui questa è la preface la prefazione del libro che è stupenda è questa che vi ho appena letto in realtà è stupendo anche questo prima di preface c'è questo che si chiama Dear Markets e fa venire i brividi ve lo dico davvero è veramente un libro adesso poi sono già un po' avanti veramente bellissimo mi piace tantissimo dice delle cose che sono posso dire che per certi aspetti mi sembra quasi di averle scritte io perché sento la stessa cosa come dire sento lo stesso feeling allora alcune cose che lui dice il fatto che il fallimento definirà in larga misura la tua crescita la tua traiettoria la tua traiettoria di vita praticamente rispetto della vita è abbastanza reale questo noi spesso ci facciamo defocalizzare dei fallimenti nel trading ci facciamo spesso defocalizzare da tante cose e devo dire che le perdite sono le primarie cose è ovvio anche no noi andiamo a fare trading con l'aspettativa di guadagnare un sacco di soldi perché comunque le aspettative sbagliate che vi vengono inserite nel cervello da tutti non Airforex non dite almeno questa cosa perché perché che abbiamo mai creato aspettative alle persone penso che almeno su questo siamo tutti d'accordo il problema è che questo poi ci porta il cane che si morde la coda e la perdita non viene accettata perché noi andiamo a fare trading per guadagnare io vado a fare un lavoro di base quindi mi trovo un lavoro perché voglio guadagnare e questo è il motivo e quindi io qualsiasi lavoro vado a fare lo faccio perché voglio guadagnare faccio trading imparo a fare trading magari pago anche per fare dei corsi pago per fare dei libri per leggere dei libri spendo tempo sacrificio soldi e poi non riesco a guadagnare quindi diciamo che spesso se poi andiamo a fare trading e sul trading falliamo questo va a compromettere tante cose nel trading e quindi poi siamo alla ricerca della strategia della tecnica andiamo e giriamo sappiamo tutto del trading ma non sappiamo farlo e non guadagniamo questo è quello che lui dice ed è proprio vero quando poi dice è spaventoso quanto sia profonda questa frase però in effetti poi come dice lui il 99% di trader non si rende conto che sta cercando risposte in un luogo che risposte non ne ha sta cercando risposte nei posti sbagliati il mercato non è sicuramente il luogo e soprattutto conoscere a mena dito tutta l'analisi tecnica la macroeconomia e tutto quello che vogliamo tutte le tecniche più incredibili non è garanzia di successo perché se fosse così in effetti non ci sarebbero così tante persone che perdono ci sono così tanti canali di trading su youtube che parlano di tecniche anche le più mai sentite siti qualsiasi cosa che parla di veramente possiamo partire dal nostro dalla price action fino ad arrivare a un sacco di robe ma la gente continua a perdere perché come dice lui e come dico sempre la gente i trader non si focalizzano nel posto giusto e lui dice ma io cosa sto facendo nel trading che gli altri non fanno per essere profittevole e dice anche la risposta è tanto semplice quanto complessa probabilmente è perché sono un perdente eccezionale bellissimo perché fa capire come la gestione della perdita è il motivo per cui lui e molti trader se non tutti quelli che guadagnano guadagnano io sto parlando non di quelli che guadagnano che hanno guadagnato l'ultimo anno che hanno guadagnato gli ultimi sei mesi o che hanno guadagnato l'ultimo mese quelli che negli ultimi 15 anni hanno guadagnato che non vuol dire che tutti gli anni hanno guadagnato vuol dire che nella media degli ultimi 15 anni hanno guadagnato e lui è bravo e lui è uno di questi il miglior perdente vince perché la persona che e poi infatti lo 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 sviscera ho allenato la mia mente a perdere senza ansia senza la perdita di equilibrio mentale lui parla di equilibrio mentale senza attaccamento emotivo sensi di risentimento di vendetta no? ecco questo dice ho imparato a conoscermi e a e allenare la mia mente ad avere quel set che mi permette di essere totalmente neutro nei confronti della perdita è lì che dobbiamo lavorare è lì che dovete lavorare in queste parole Tom Hogard vale il libro io potrei non andare avanti però è molto molto interessante ma con questa prefazione per me lui ha vinto ecco è quello che credo è quello che penso e lo volevo condividere con voi dice pure che la sua conoscenza dell'analisi tecnica nella media è grazie a come funziona la mia mente che sono il trader che sono e faccio il trading che faccio pensate un po' ragazzi io è da anni che metto i miei risultati cioè quello che faccio lo sempre lo comunico trading room non trading room platinum youtube su vari blog nel tanti anni fa effects insider posso tirarvi fuori anche cose che voi neanche conoscete perché siete nel trading magari da 3-4 anni ma che ho fatto negli anni ho sempre mostrato senza nessuna come dire senza nessuna alterazione emotiva i profitti e le perdite senza nessuna paura i profitti e le perdite e deve essere così se abbiamo un periodo negativo io per esempio in questi quest'anno in questi mesi non sto vivendo un gran periodo a livello di risultati ma sono tranquillo già viste queste cose e già sorpassate attraversate è ovvio che magari chi vede questo canale e magari vede che faccio una perdita o due perdite consecutive diciamo questo qua non è in grado perché è così va bene noi facciamo vedere tutto quando faccio buoni trade consecutivi in guadagno e le persone si affezionano e dicono mamma è un mago è fortissimo ma in realtà non è così io faccio quello che ho da fare e il risultato poi ne ha la conseguenza vado a ovviamente trovare e pianificare gli spunti e pianificare la mia operatività in realtà quello che si va a fare è esclusivamente disciplinatamente fare quello che ci dice la nostra metodologia il nostro social trading accettare perdite e profitti e accettare anche il fatto che se lo si mostra in modo totalmente normalissimo e tranquillo non c'è per forza dall'altra parte ci sarà il giudizio ma da parte nostra da parte mia non c'è per forza l'accanirsi va bene così profitti e perdite questo fa parte del trading in questo canale voi avete sempre visto questo la realtà non c'è mai stata nessuna parrucca se vogliamo nelle varie cose sempre mostrato tutto questo ci ha portato come i Airforex ad avere magari meno seguiti di altri in certi momenti più seguiti in certi altri ma alla fine noi non abbiamo controllo su questo vogliamo divulgare il giusto approccio vogliamo divulgare la giusta mentalità il giusto equilibrio e l'accettazione che questo mestiere è un mestiere difficilissimo che tutti possiamo provare a fare ma che non tutti riusciremo a fare e che ci saranno gli anni da anche negativi gli anni da più 10% e gli anni magari da più 50% questo è questo è il lavoro del trader è questo che io vivo e ho esperito in tutti questi anni a me piace tantissimo quello che dice anche nell'ultima frase la conoscenza di me stesso è ciò che mi fa distinguere la vera misura della tua crescita come essere umano non è ciò che sai ma ciò che fai con ciò che sai questo è un grandissimo concetto vorrei lasciarvi con questo riflettere su questo su questo tema e dirvi e sottolinearvi il fatto che se volete veramente fare trading ad alto livello con anche lottaggi di un certo tipo con size di un certo tipo cioè fare trading in un certo modo dovete per forza passare per la grandissima conoscenza di voi stessi l'introspezione il lavoro introspettivo è riuscire ad arrivare ad un certo punto che profitti e perdite sono per voi la stessa cosa non ci deve essere dovete essere assolutamente neutri su questo io ci lavoro da anni ci sto ancora lavorando ma sono arrivato a un punto notevolmente ottimale diciamo profitti e perdite devono essere praticamente la stessa cosa best loser wins il miglior perdente vince sono un perdente eccezionale anch'io come Tom Hogarth un saluto al prossimo video ciao